Accanto al summit del G20 da alcuni anni si riuniscono diversi gruppi di lavoro che riguardano i temi del business, delle donne, dei giovani e da sei anni ha anche un interfaith forum. È il forum dedicato al dialogo interligioso e quest'anno nel G20 italiano si terrà a Bologna il 12-13-14 settembre con un titolo C'è un tempo per curare, Time to heal, che viene dal libro del Coelet, il libro della scrittura ebraica e cristiana. Nel Coelet il tempo per curare non è inteso come il tempo in cui si devono curare le malattie e le pandemie come quella che oggi viviamo, è inteso come un alternativo a cose di più drammatico. Dice quel verso c'è un tempo per uccidere e un tempo per curare. Il tempo per curare e il tempo per guarire è quello che vuole guarire dalla pandemia e per questo al G20 sotto la presidenza italiana saranno invitati leader religiosi, diplomatici, politici, studiosi che possono cercare di riflettere sul modo in cui le grandi comunità di fede possono essere portatrici di un appello rivolto soprattutto a se stesse. Un appello che le renda protagoniste di uno sforzo di pace per curare quella grande pandemia che è la pandemia della guerra, la pandemia dell'odio che devasta ancora tante parti del mondo. La presidenza italiana ha dato una grande importanza a questo evento di Bologna e per questo verrà ad aprirlo il capo dello Stato, il presidente Sergio Mattarella e vi parteciperanno figure importanti da Zakharam, la segretaria generale di Religion for Peace delle Nazioni Unite, a Ronald Lodio, il presidente del World Jewish Congress, un certo numero di grandi figure del mondo islamico, sia Shita che è sunnita, ministri degli esteri, ministri di altri settori, il caratteri parolini, il segretario di Stato di Papa Francesco, per poter avere in questa città, che è una città assegnata dalla violenza e dallo studio, se si può dire così, un'esperienza di pace e una semina di contenuti che abbiano rilevanza nelle relazioni internazionali. As a professor of comparative law, who is especially interested in law and religion, I am very much looking forward to the G20 Interfaith Forum, that will provide an invaluable learning occasion and a unique opportunity to broaden the conversation among scholars, religious leaders and political actors, who all strongly believe that human rights should never be the monopoly of a given culture, but the common language of all human beings.